C'è una vita, che vita da raccontare, quella di una donna, di una famiglia che con coraggio e passione è riuscita proprio a coronare il sogno di rendere nobile quello che veniva considerato il distillato dei poveri. Pensate, la grappa, creando a Percoto, vicino Udine, la più grande distilleria artigianale italiana. Un'eccellenza conosciuta e riconosciuta in tutto il mondo. Giannola Nonino, buongiorno. Grazie, grazie ogni volta, perché ricordo le battaglie, porca miseria, per arrivare a questo. Eccola, e lei l'hanno già definita. È molto elegante. Armani di vent'anni fa, la Madonna di Dio. L'hanno già definita la regina della grappa e principessa della zolla. Lei quale preferisce? Gianni Brera, tesoro, lo adoravo. Ecco, Antonella, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Benvenuta, che insieme alla mamma e le sorelle Cristina ed Elisabetta lavorano proprio all'azienda di famiglia, una famiglia di donne. E la nipote anche, il mio nipote è Francesca. Quanti anni ha Francesca? Trent'anni. Ecco. Influenza della grappa, influencer. Influencer della grappa. Senti, com'è lavorare insieme, tutte donne insieme? Non è sempre facile? Beh, è complicato. Abbiamo il vantaggio che abbiamo un certo allenamento ormai, perché prima si cresce in famiglia e ovviamente si imparano tante cose perché ci hanno messo sotto fin da ragazzine, perché è la classica azienda familiare. Certo. E abbiamo imparato tante cose ad amare, soprattutto la nostra terra e la grappa, prima perché volevamo stare con la mamma e quindi lei era sempre in distilleria col papà e poi siamo diventate autonome. Ecco, lei prima parlava di battaglie. Qual è stata la battaglia più battaglia che ha dovuto affrontare e che poi, come sappiamo tutti, ha vinto? E' gli ostacoli che purtroppo la categoria ci mise allora, abbiamo impiegato dieci anni, quando abbiamo deciso di distillare separatamente la vinaccia di un unico vitigno per far capire che era anche la materia prima della vinaccia, non era uno scarto, era la buccia dell'uva. Che se tu la prendevi freschissima, la facevi fermentare e lo distillavi con un allambicco discontinuo artigianale, riuscivi ad estrarre quei profumi e quei sapori che avevi nel vino. E infatti non posso dimenticare l'emozione del primo dicembre del 1973, quando contro l'opinione di gran parte proprio della categoria, abbiamo voluto distillare separatamente le vinacce del vitigno più nobile del Friuli, uno dei più nobili del mondo, il Piccolit. E io mi sono, quando ho venito distillando, uscivano le prime gocce di grappa in presenza del funzionario ovviamente, e me le sono raccolte in mano, avevo le bambine che mi tiravano per la gomma. Bene, ho sentito gli stessi profumi, i sapori delle vigne dove ero andata a scegliere quella varietà, e ho capito e mi sono messa a urlare, benito, benito, ce l'abbiamo fatta. Però non era solo quella. Adesso ho ancora una battaglia col Ministero, che a favore del consumatore dobbiamo imparare a rispettare. Giannola, facciamo un passo indietro. Scusi se la interrompo, ma vedo che non hai problemi, ci diamo del tu. Sì, magari. Ci siamo incontrati al trucco, mi ha dato un'energia questa donna. Mi viene più, potresti essere mia figlia. Ecco, facciamo un passo indietro. A 18 anni hai conosciuto tuo marito? Prima mi sono innamorata di lui, perché oltretutto... Prima di conoscerlo. Sì, veramente, un fascino enorme, poi mi snobbava completamente. Poi mi sono innamorata del suo mestiere, l'arte della distillazione. La distillazione di Benito è una mania. E lui rappresentava la quarta generazione di una distilleria. La quinta. Quinta. Siamo noi. Voi siete la quinta, la quinta. La Madonna per doccontri. Che è di una distilleria piccolissima. Ma chi ha fatto il primo passo? Scusa. Tu o lui? No, devo sapere bene. Lui, lui, lui. È una donna tanto moderna, ma il primo passo è lui. No, ma pensatevi. Io mi sono sposata nel 62. Nel 61. No, 62, no? Sì, perché si diceva nel 63. Allora l'arcivesco di Friuli diceva alla donna che la tasa, che la piazza, che la staga a casa. Che piaccia, taccia e stia a casa. Io ho avuto dei genitori modernissimi che mi hanno, si chiama mia sorella, educato come un individuo pensante. Mirare lontano per arrivare almeno vicino. Il rispetto che si è cercato e non mollare mai. Non mollare mai. Quando alla sera spesso eravamo invitate dagli amici dell'Udine Bene, io con molta fierezza arrivavo non col mazzolino di fiori, non con il whisky, il cognac, lo champagne. Poi arrivavo con la grappa di Benito perché vedevo con quale passione e quanta determinazione aveva. E non era mai contento, sempre meglio, sempre meglio. La Madonna non ce l'offrivano mai. Allora alla fine... Ma che cosa le fissi innamorare di lui? Di Benito? La passione che ha lui, ma proprio perché mi sdombava. Ah, hai capito? Però io non so se dico bene, Benito è un uomo molto paziente. Paziente, tanta pazienza. No, no, nessuno dei due. Nessuno dei due. Nessuno dei due, diciamo. L'otta continua di giorno e tanto amore alla sera. Senti, con Benito, a parte l'amore, nasce appunto questo sodalizio anche lavorativo. Per dieci anni, prove e riprove, per darvi che... Alla fine, sapete dove andava a finire la grappa che regalavo io? Anziché essere offerta agli ospiti, assieme a noi? Vado in cucina e vedo la signora di casa e dice Ma signora, sa, sono persone di alto livello, non possiamo dare. Questa la teniamo per l'idaurico, perché ci porta la legna. E mi mette sotto l'acquaio. La Madonna, sono stata brava. Non ho detto niente, però alla fine, quando sono arrivata, Stavo per salire in macchina e ho detto, Benito, e adesso parte la rivoluzione, nonino. Dobbiamo dare pare dignità delle altre acqueviti nel mondo. Dieci anni, ma ce l'abbiamo fatta. Senti, com'è complicato tenere testa a una donna così? Molto, però abbiamo un vantaggio, che siamo in tre. Siamo tre sorelle e credo che questo ci abbia molto in questo senso legate. Non è un caso che tutte e tre siamo rimaste a lavorare in azienda. Siamo cresciute in mezzo, quindi ci siamo trovate. Però siamo anche restate. E quindi, anche perché il papà è altrettanto, eh? Adesso ho 89 anni, ma... Ma si può dire la sua età? Madonna, io però dico perché mi porta bene. Sono trentottina. Compio 85 il mese di settembre. In piena vinaccia, povera. Lei non ha mai festeggiato il compleanno, ma organizza sempre la festa danzante per il papà. Però è riuscita ad essere anche una mamma come esempio. È certo. Mamma mia, è presentissima anche, anche troppo. Se non lavorava, eravamo morte. Senti, ma guidavi il camion, Giannonna? Diciamolo. Tu andavi proprio col camion lì tra i... Ma chi voleva che andassi col camion quando gli operai? In un momento in cui... Gli autisti erano figli. Non era così scontato. Perché per Benito bisogna avere la vinaccia appena vinificata, devi portarla a casa, farla fermentare se bianca, se rossa, devi andare immediatamente nell'arambito. E andare a trattare con i vigaioli. Un lavoro da uomini all'epoca, soprattutto. Però ho avuto un vantaggio. Primi anni 60, ricordatevi, che le donne, i mariti, di solito, anziché spingerle avanti, le spingevano indietro. Io ho conosciuto delle vigaiole meravigliose che purtroppo nel lavoro erano. Però sta in disparte. Quando ho chiesto di mostrare il viso, quel del maritino, lui invece mi ha sempre spinto avanti. E nel camion lo portava anche voi, figli? E per stare insieme? Per stare insieme. Però abbiamo dei ricordi bellissimi di queste vigne, perché quando si avvicina la vendemmia c'è tutto il colore dell'uva, nel tempo anche le foglie diventano... E quando arrivavamo dalle vignaioli, entravamo in casa, perché adesso si parla dei vignaioli come delle star, una volta c'era questo rapporto ancora più legato, non so, io ho questi ricordi proprio da bambina, e noi arrivavamo e ci offrivano il succo di frutta, la mamma al bicchiere di vino, e sentivamo lei che appunto parlava, andavamo in vigna, lei controllava il tenore zuccherino per capire a che punto era. Quindi ha cambiato anche il vostro modo di essere donne, questo lavoro? Penso che sia... Certo, certo. Ma abbiamo sempre visto lavorare la mamma, lavorava anche la nonna, perché l'azienda, la distilleria l'ha mandata avanti, la mamma del papà che era rimasta vedova. E quindi... E la mamma della mamma era maestra, e quando era a casa in pensione faceva noi lezione a casa, diciamo. E poi il vantaggio, sai quello che è stato, che venì per mio marito, lui non è mai sufficiente, lui adora la grappa, il suo lavoro, e non è mai sufficientemente contento, deve fare sempre meglio. Per cui tu, lui, dall'input e avanti, siamo uno squadrone. Siete uno squadrone, non ti sei fermata davanti a niente, anche quando ti hanno detto che era difficile partorire, che avresti potuto... Dovevo morire? Ecco, e invece... Dovevo morire? Ho fatto il cuore da due o due anni. E invece... E invece Giannola non si è fermata davanti a niente. E via! Siamo arrivate e insomma... E anche bene. Bellissimo, bellissimo. Senti, determinazione, coraggio, con coraggio e determinazione, riesci a trasformare la grappa da Cenerento, la regina dell'acquavite. Ecco, questo lo dobbiamo molto a Benito, alle figlie e a me, ovviamente, alla famiglia. Perché indubbiamente questo è un lavoro di squadra. O ci credi... Assolutamente. Io spero che ci siano dei ragazzini giovani, per ragazzini intendo ragazze e ragazzi, perché qua adesso bisogna stare attenti a come si parla. Ecco, ricordatevi, dovete scegliere un mestiere che vi piaccia, che sia un divertente per voi. Perché lavorare in un qualcosa che ti dà soddisfazione non ti pesa. Per me fare 18 ore al giorno non me ne fregava, non mi pesava. Perché lo facevo divertendomi. Assolutamente, quella è la chiave nella vita. E la nipote, voglio sapere, le nuove generazioni che porteranno avanti questa eccellenza, come sta vivendo questo... Beh, la nipote Francesca ha la grande, perché è entusiasta ed è riuscita ad avere... a trasmettere questo entusiasmo e ad avere un sacco di followers, come si dice oggi. Adesso è degli Stati Uniti, la dora, no? Le nuove generazioni sono lì in attenzione. Siamo su 8 nipoti, sono 7 ragazze, e le mie figlie, le mie di Elisabetta. E la napa, no? A parte che Gianola, tu sei ancora lì sul campo, che roba, vediamo ancora te. Si vede, no? Non mi lascia neanche finire la frase. Grazie. Elisabetta, io ho visto tutto l'incontro che c'è stato, come i suoi occhi guardavano gli occhi di sua mamma, regalavano parole d'amore. Sì. Da quanto tempo non dà un bacio alla mamma? Non dà un bacio? Ma da tanto, perché la scorsa settimana, che ho provato a darglielo, lo dia ora davanti alle telecamere. È un periodo complicato. Dia un bacio a sua mamma. Mi tocca. È un periodo complesso. Amore. Per dire il vero, vi ringraziamo perché ieri sera siamo arrivate a Roma. Avete fatto? Cappate dall'ufficio che non abbiamo fatto vacanze. Benissimo, hai fatto tante cose belle. Siamo andate a mangiarci una matriciana. Abbiamo fatto una serata. Vi siete godute a Roma solo voi due. Come due fidanzati. E siamo felici, siamo nuove. Siamo nuove. Ogni tanto fa bene. Questi sono anche i regali della Rai. Grazie per averci regalato questa bellissima testimonianza. No, veramente. Che è arrivata nelle case sicuramente con una forza e una potenza. Ma sai cosa proteggiamo quest'anno noi? Quanto? 50 anni della creazione della grappa di Mono Vitigno. Ecco. Mono Vitigno. La grappa che ha conquistato il mondo. Tiberio. Veramente, è una cosa meravigliosa. Assolutamente. Abbiamo raggiunto quello che ci volevamo. E speriamo che... E questo l'abbiamo fatto perché poi anche una parte della categoria ha capito. E prima, se magari ci boicottavano, poi ci hanno seguito. Senti, velocemente avete conosciuto personaggi importanti come l'Avvocato Agnelli, e poi gli attori Mastroianni. Insomma avete avuto... O ci adorava Marcello. Marcello li adorava. Insomma avete avuto... Il premio, porca miseria, vi hanno salvato. I Fitigni e Utoctoni friulani che erano... Veramente, destinati a morte certa. Tiberio, vieni a salutare Gianola. Schiopettino, Pignolo e Taccelenge. Vieni con noi. La Madonna di Dio. Ma il 27 settembre sarà il tuo compleanno perché compierai... Ma non festeggio io. Festeggio? No, mai. Perché sei lì? No, no. A lavoro. Non festeggio perché... Non vuoi festeggiare. Ho festeggiato i 70 anni. Festeggio 85? 85 festeggio. Compio 85. Compio 85. Festeggi. Io dico trentottina perché se ti dici 85... se ti dici trentottina, sai di combattente. È vero? È vero. Assolutamente. Sei una combattente vera. Quindi ragazzi, bisogna sempre ragazzi e ragazze. E bisogna sempre fare qualcosa che si ama. Sempre. Che si ama. E come abbiamo detto prima con i ragazzi, con i grandi interpreti dell'opera musicale Notre Dame dei Paris e Romeo e Giulietta, ama e cambia il mondo. E questo è proprio uno slogan che dobbiamo fare. Sai, è una cosa meravigliosa che abbiamo fatto ed è venuta da sé. Noi abbiamo creato il premio Nonino per salvare gli antichi vitigni autoctoni friulani che i nostri politici si erano ben guardati dal mettere... fra le varietà che dovevano essere coltivate in Friuli. Quindi, quando sono andata a cercare la minanza di Schiopettini mi hanno detto sì, però non possiamo dargliela col nome perché è proibito. Ha creato il premio, quello io dico che sia il più bel dono che lasciamo Venito e Dio alle nostre figlie. nato per sottolineare la permanente attualità della civiltà contadina e nel senso di rispetto per l'uomo e per la natura. Gianola, diciamo insieme. Però dopo 40 anni, 50 anni quasi del premio, io mi ricordo Ermanno Olmi che ha voluto premiare la copertina del Times che diceva salviamo il pianeta 1989, non avevamo fatto niente, porca miseria! Tiberio, questa carica vitale della signora Giannola e di Antonella veramente è forte, è pazzesca. La testimonianza della validità della grappa, ci mancherebbe altro, adesso scherzi a parte. Di tutto quello che hai detto c'è una cosa che ci ha molto colpiti, il fatto che riuscire a fare della propria passione un lavoro significa che non hai lavorato un giorno nella tua vita ed è questo importante perché c'è chi ha l'illuminazione e chi lo capisce e questo speriamo che possa essere un modello. Grazie ai tuoi ospiti!